ciao ragazzi bentornati a questo video gameplay commentary world truth eccetera eccetera l'italiano di skylander e giocatore già partiamo male sono troppi skylander sull'altare del potere io sono qui e sono qua con leo di toglie jetpack per il gioco ci è piaciuto è di poco e quindi gigante con gli occhi che si illuminano c'è brutalmente il risultato 3x in partita adesso vediamo un po' cosa fare perchè ci sta intempando male siamo saliti sulla nave alla fine del primo capitolo con Flynn che è un maestro del parcheggio so quello vibra benvenuto a bordo del vento di vibra da solo cosa perché mi ha fatto il plasticone quindi vibra mia è merda da feste che stai facendo? ah non sono stato io perchè sto viaggio e forse la più importante di tutte andrei a prenderla io stesso se non fosse che a causa di un maltenso non mi ha consentito mettere piede su quest'isola è una lunga storia e sono sicura che sia fly cooper così se tu potessi andare a prenderla nel frattempo io e cari ragazzi si guarda la riparazione bene andiamo lui voleva parlare con noi se questa nave è fantastica ma sta per diventarlo ancora di più ma non ce ne frega il cavolo attraversare queste rovine e raggiungere la mia io sono solito con gare lo sottolineo così siete tutti felici non so che vi fa piacere sentirei come si chiama la GUE boom eccellenza è servita beh andiamo a prendere le cose andiamo a prendere le cose ok adesso questo gioco è una figlia infatti sto lanciando delle bombezze io ma anche in singole è divertente perché mi diventiamo stare lì pensare fare pigiare facciamo il potere del gigante un attimo è bellissimo che lancio eh ti esplode in mano eh scusare le vette ah ah è vero questo non farò via adesso prima no invece però qui c'è usato il gigante ah è più comodo qui eh nelle aree in cui prevale il suo stesso elemento il tuo Skylander avrà un potere maggiore e acquisirà maggiore esperienza questo l'hai scritto te? queste belle ripetizioni eh sono non morto sono più forte perché sono più forte guarda chi c'è qua che ci vorrebbe no non è mio guarda che c'è la morte ci vorrebbe il tuo mio futuro eh che bello eh passione a fuggere l'occhietto il cazzo c'è uno di te il valore da questo gioco è veramente grandissimo ti rompi il capo difficile ma ti raccomando i giocatori da 5-10 anni come leo c'è uno in mano un buffo masso che bravo ecco lo valutai stavo sottovalutando non so se può metterlo non sottovalutare mai non sottovalutare mai non sottovalutare mai non sottovalutare mai ma se non siete inutati gli Skylander cosa volete fare? boom boom il giant è un fino barato fino fino no datemi da mangiare che ho ferito non so come che ferito 404 di più io ho 2.40 una seconda che fa puliamo l'ecosistema no non mi sono mai divertito tanto a usare la Wii come quando mi parli con il giochino spettacolare maruto è stato più bello no patapon no pata pata qualcosa patapon è quello per PSP patapon è per cosa coso coso kingdom c'era un pata qualcosa era pata kingdom forse non è uscito palle forse non è uscito palle l'avevo comprato io di importazione no no era palle l'avevamo entrambi sicuro beh vabbè comunque è era quello che ho fatto un sacco di serate eh che gioco un mix tra un gdr e il gioco del lock non mi ricorda avere sostanzialmente magic tutti i move in giro turni ero un triple bene dopo serata revival su e via anzi ci vediamo a finire scelta eh ero gioco super di micca chi cavolo sulla cagata volevi dire fantastico carriano ora si che è una vera ventura on the road cioè ci serviva per la nave carriano eh adesso non aveva la musica potevamo reclutare brook come tutte le ciurme siamo venuti qui per questo potevamo sparare al capitano e rubagli la madre in effetti il nostro motore è una famiglia di procioni il nostro motore è una famiglia di procioni vedi che ho detto procioni e questo non va bene giusto? avevi detto Cooper vabbè prima nell'altro video ho detto procioni questo è il sindaco di procioniopoli pare che stavolta non ha sbottacchiato un momento vuoi dire che finora questa nave è stata alimentata a energia procionica? furia procionica per l'esattezza anzi se non usiamo si chiama furia procionica se intendiamo rimpiazzarle la prenderanno male vabbè andiamo eh il piccoletto con il motore è proprio laggiù se gli ripari di nuovo si tira una capata ma prima ha fatto vedere una cosa diversa non vedi non vedi si vabbè chissà dobbiamo comprare il motore ma i soldi non possiamo usare la chiave dobbiamo rapire il tic parlare con quel tizio e voilà niente più progno ma scusa stiamo andando una porzione perchè dobbiamo cambiare il suo sistema di movimento no demone della corteccia lo stai il skylander dell'elemento ferma sono dei forti precati no 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 mi dai una mano magari sto parando ah non c'è più mi dai una mano sei un massacratore folle perchè sei nato verso i soldi maledee suggerimento usa una chiave per aprire le porte vieni qua un attimo ho visto una cosa ho visto una cosa non raccogliere i soldi ma perchè li raccogli io tolgo il masso e ti raccogli gli soldi ma sei veramente giusto vabbè dai soldi ti rilascia da spai la vera cittadino e passare vediamo se abbiamo un prozione col motore se non ci fa prezzo di favore ho fatto delle mozzate livello superiore oh sei a livello usa la porta ma perchè tu sei la vina darmi una mano eh vabbè stava ammazzando in giro no stava ammazzando in giro no stava ammazzando in giro stava ammazzando in giro e quindi adesso con livello superiore ho fatto in giro pari ma era un colpo potenziato quello guardate l'ho premuto ci puoi sparare posso sparare mentre più potremmo anche guardare i tasti eh ecco com'era col meno allora vediamo un attimo c'è solo cappelli esistono beh però grandi qui poi cilindri ma che ce ne ho un bocca ma puoi usare anche il tuo ce ne ho un bocca ma non è pure me no potenziamenti per me apriaco pieterino con pugni enormi generando un duo per inviare tra voglio inizio ostacoli per me z per contare il potere del suo lanciare raggio di luce ma bisogna sbloccarli questi ma bisogna sbloccarli questi e poi c'è c'è anche doppio puoi che scegliere poi c'è un picchio combatto al fianco di T-Rex gioma dell'anima sul botanile amoriche peso vabbè questo con l'ex poi vanno su bello profondo non so vedi su 250 ci sta manetta un filo profondo mille nemici scato a seconda e vieni qua questa roba che si prende che ragazze c'è un gioco eh io però devo capire nooo vabbè che capo non lo sapevo io che dopo lasciamo dietro su ah è rientrato tu guarda no no io ero qua ah questa è una una porta allora questa andiamo a questo livello a questo livello è una cartina del portone ci sono di slash attimo ma cacchio c'è una bomba in più questo è un grazie per avermi aiutato prima una volta questa città era un bel posto per rilassarsi dipingere falsi comunque se hai bisogno di un riparo può sempre rifugiarti in una casa come questa e non si segnalano di questa cosa dai cazzo dai cazzo perché perché vuoi vuoi non mi ridi ti sono leggendario tu hai visto che ti ho portato a trovare un leggendario no guarda guarda la monalisa con il tuo mico hai visto dai vista dai vista la monalisa ma smite di raccoglie il suo basta ci passo sopra ma guarda quanti è te e quanti no io ma se c'è poterlo io voglio notti e notti di ricerca per trovare monalisa di skylanderjaya prima di andarcene lasciamo questo regalo e io vivo che palle sei vibroso ma mi ammazzano un po' di nemici non ci imparerà mica da dire tutto ah ok devo farlo io ho messo ho messo ho messo ho messo ho messo faccio lungo guardi ah no gli prendono lo stesso ma l'ho ucciso ma che droppato lo già ho detto ho detto va bene ancora ancora c'è il sentiero per prendere la tua ma sono una tira cele qui cazzo guarda un atto devi qua devi fare un po' di campo per prendere mappa è che è un atto è che è che è no ho dovuto prendere queste vabbè di la si va per raccogliere quello ah ma erano solo soldi purtroppo aspetta mi piace poco soldi arrivo vabbè aspetta che cansati sennò ti lascio anche questo punto ovvio mi hanno fatto a Porsche permesso devo lanciare quello sui nemici sentimi realizzato squizzare un po' di nemici ancora un po' più avanti però il ponte veramente i due hanno detto ahia ho fatto anche forte qui non so se si entrava con ah ho già proprio fatto due di tanta roba da raccogliere ma questi ci sono un sacco di case da in cui entrare aspetta ah ma è vero quando posso incendere le cose le rompono quindi perché basta mettiamo dentro un attimo veramente finito io sto anche morendo dai morendo però ho perso quasi metà vita ah veramente spettacolare glocivo cinese il gigante no no ho fatto ho fatto bene dai ah sicuramente si si è fatto bene benissimo benissimo ah guarda 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 che siamo nella vita io recupero la vita no il ho mandato tutta la vita prima scusa nel livello non recuperavo la vita non lo so ma no comunque più è per mettere in pausa meno per mettere in pausa del menù è molto carino un po' con le abilità e tutto aumenta la longevità beh questo più o meno lo sapevamo bravo ma facciamo una chiave comunque non bisogna più parlare direi che quando questo video ci sarò già io sono online sto lasciando gli implante di terra torna a trovarmi uno di questi giorni ma prima impara a giocare a fietracielo ah i positori nei livelli stile lego